Ciao a tutti, continuiamo le video ripetizioni di ortopedia. Avevo detto che avremmo fatto la video ripetizione di ematologia, ma su due piedi ho cambiato idea. Ho detto meglio fare i tumori ossei, così mi porto avanti con le ripetizioni di ortopedia. E secondo il programma che mi sono preparato, diciamo che dovrei continuare a fare soltanto fino a fine aprile, insomma, soltanto le anemie, così non mi porto troppe materie contemporaneamente da ripetere. Allora, parliamo dei tumori. Quello che mi interessa dire dei tumori non è la patogenesi, perché quella è anatomia patologica, non mi interessa quindi la parte neanche della definizione, fondamentalmente quello che mi interessa è l'aspetto clinico radiologico, neanche tanto la terapia, perché alla fine la terapia, quella di un tumore, è sempre quella, quindi. Allora, per quelli che sono i tumori benigni e maligni, neanche questo mi interessa, perché in realtà tutte queste robe le abbiamo già fatte. La diagnosi, vabbè, in funzione dell'anamnesi, dei sintomi, della sede del tumore, dell'aspetto radiografico, poi TAC, risonanza magnetica, PET, arteriografia, biopsia per l'esame istologico, il trattamento, neanche questo mi interessa, i tumori metastatici, ma principalmente sono quelli della mammella e della prostata. Però mi interessa sapere dove si localizzano, questo sì. Si localizzano con facilità nel tessuto osseo spongioso delle ossa brevi, delle ossa piatte, in sede meta e pifisario delle ossa lunghe. rara la localizzazione a mani e piedi, quindi questa è l'unica cosa che devo tenere a mente, è vero che poi tutte queste robe le ripeterò a oncologia, quindi ossa brevi piatte e la porzione meta e pifisario delle ossa. Osteolizi, e questo lo sapevo, non sono di natura osteoblastica, possono darla, però di solito è osteolitica. Ok, la diagnosi, il trattamento non mi interessa. Parliamo adesso dei tumori dell'osso. Allora, tumore primitivo, osteoma osteoide. Allora, neoformazione ricoperta di periostio a livello della corticale delle ossa lunghe o nella spongiosa subcondrale delle ossa corte. Ha un carattere benigno, non è molto rara, si manifesta tra i 5 e i 25 anni, quindi corticale, spongiosa, subcondrale. Poi, localizzazione agli arti inferiori, scafoide, astragolo, tibia, femore. Poi, sintomatologia, dolore sordo, passa con fondamentalmente l'aspirina. Poi, ci può essere una tumefazione qualche volta. Radiologicamente abbiamo una zona di osteolisi a limiti netti, cosiddetto nidus, per dirlo in modo più preciso. Abbiamo una porzione addensata e una porzione di necrosi circolare, ok? La diagnosi differenziale poi andrà con l'ascesso di borodi e l'osteomielite sclerosante di Garrett, che sono delle forme croniche di osteomielite abinizio mossi. Mi ricordo sta roba, non dico un genio, però sto scherzando, sto scherzando. Abinizio, croniche, ascesso di brudi, osteomielite sclerosante di Garree, osteite corticale circoscritto. Perfetto, non sono un genio. L'ho azzeccato, l'ho azzeccato. Allora, andiamo avanti. Il trattamento chirurgico, vabbè, l'asportazione. Quindi, di un osteomo osteoide, fondamentalmente questo. Diagnosi differenziale, perché sto cercando di ricordarmi quelle cose che magari mi possono più interessare per il test di specializzazione. Fondamentalmente il nidus. Questa è la parola magica che nel caso potrebbe uscire fuori dal test. Nidus. Poi, esostosi osteocartilaginia. Pifisaria, una proliferazione ossea in corrispondenza del versante diafisario della cartilagine coniugale. Tumefazione, dolore alla palpazione, dolore con movimenti articolari per tensione muscolare alle volte. Poi, sono colpiti i soggetti in cui non sono ancora chiuse le cartilagini epifisarie, quindi che non sono ancora cresciuti del tutto in altezza. Quadro radiologico. Estroflessione ossea. Ah, eccola, perfetto. Cioè, praticamente è come se avessimo un polipossio, detto in parole povere. Corticale, iuxta, metaspisaria. Ok, possiamo avere una forma isolata, localizzazione multipla. Poi, degenerazione maligna. Quindi, per le forme multiple c'è il rischio di condrosarcoma per l'ostiocartilaginia. Trattamento poi, chiaramente, soprattutto estetico, chirurgico. Quindi, eso-ostosi. Eso-ostosi, quindi rafforzamento esterno osseo, di natura osseocartilaginia. Ok. Eh sì, questo aspetto di polipossio, questo mi deve interessare. Poi abbiamo il condroma. Ce l'ho presente. Un tumore benigno cartilaginia abbastanza frequente. Cavità midollare. Quindi, se prima l'osteoma l'abbiamo vista a livello corticale, no? O nella spongiosa delle zone subcondrali. L'esostosi superficiale. Qui abbiamo una problematica della cavità diafisaria, delle falangi, metacarpi e metatarsi. Quindi è una problematica che noi abbiamo a livello delle mani e dei piedi. E la vediamo come qualcosa che, insomma, forma un acisti, un buco acistico all'interno dell'osso diafisario. Quindi questo mi interessa principalmente. Chiaramente la possibile frattura patologica. Ci possono essere delle forme di encondromatosi multiple. Vabbè. Il dolore, la tumefazione, vabbè. La zona di osteolisi, vabbè. La diafisi gonfia e assottigliamento corticale. Questo sì, mi interessa. Diafisi gonfia e assottigliamento corticale. Perfetto. La terapia è l'apertura della zona osteolitica. L'asportazione, quindi apri, togli, ripulisci e metti delle bratte osteoplastiche o surrogati osteoconduttivi. Vabbè. Poi abbiamo l'angioma. Tumore benigno a livello dorsale e dorso-lombare dei corpi vertebrali, principalmente. O a livello delle metafisi e delle ossa lunghe. Capillari dilatati e ripieni di globuli rossi. Beh, ma... Il quadro di lombalgia. Ecco, quindi possiamo avere una lombalgia in quel caso per questi capillari. Abbiamo un corpo vertebrale appallizzata, con un espessimento verticale di queste traveghe. Poi abbiamo il tumore a mielopassi. Aspetta, vediamo un attimo se riesco a trovare questa figura. Caspita, un giovane della vertebra lombare, il corpo vertebrale appare ridotto di altezza, con limitante superiore, inferiore, molto infossato. Aspetto appallizzata della spongio vosà proprio tagliuzzato. Quindi dire l'aspetto appallizzata significa come se uno facesse delle appallizzate di addensamento osseo e zone di riduzione di addensamento osseo. Ok. Il tumore a mielopassi invece generalmente è benigno. Abbiamo diverse cellule giganti. Sì, vabbè. La sede è quella epifisaria, secondariamente interessa la metafisi, predilizione di ginocchio e polso. Quindi a livello del polso c'è questa cavità gigante, fondamentalmente, che uno la confonderebbe con un condroma, non colpisce quelle zone. Il condroma non è neanche così grande. Vabbè, la sintomatologia quella è, la chirurgia quella è. A me interessa avere un'idea di questo tipo di tumore. L'osteosarcoma, che è uscito al test di specializzazione, tumore maligno. Clinicamente dolore intenso, tumefazione, cute calda, con reticolo venoso. Aumento della sedimentazione di globuline alfa 1 e alfa 2. Ha una variante osteolitica osteoblastica. Radiologicamente la variante osteolitica. Fenomeno di distruzione con immagine a scoppio di granata. Nella variante osteoblastica, invece, abbiamo la zona a sole variante, a pettine o a sole radiante. Vi metto un attimo in pausa, scusate. E quindi qui abbiamo, qua il, qui abbiamo la granata e qua abbiamo invece il sole radiante o pettinato. A granata osteoclastica, a pettinato osteoblastica. Va bene, va bene. Poi abbiamo il sarcoma di Ewing. Questo qui, le care blue cells. Questo ci deve interessare perché è un tumore neuroendocrino. E questo è un carattere importante. Ok. Abbiamo queste cellule a rosetta intorno ai vasi. Anche poi queste rosette le abbiamo anche nei tumori centrali. Le cellule nervoso centrali. Vabbè, la clinica, la febbre. Ecco, questa era la cosa che mi interessava più di tutti. L'unico che ha la febbre. Leucocitose, anemia, ves. Quindi questa è una caratteristica clinica di diagnosi differenziale. A livello radiologico abbiamo un morso di tarma con piccolissime zone di erosione. Fogliette di cipolla nella reazione periostale. Ok. Va in diagnosi differenziale con l'osteomielite acuta e ematogene. Vabbè. L'osteomielite è una febbre prima, settica e più suppurativa. Va bene, qui invece no. Poi, vabbè, il tipo di terapia neanche mi interessa. Ok. Poi. La cisti giovanile ossea. Questa, per esempio, assomiglia tantissimo con il tumore da mielopassi. Ma in realtà è una problematica che, diciamo, a cavità cistica è molto più grande. La cisti ossea aneurismatica. Poi i tumori dei tessuti molli, questi felicemente li sto bypassando tutti. Quindi, quelli benigni, fibromi, lipomiel, neuromi. Quelli maligni, fibrosarcomi, liposarcomi, schwannomi, mangiomi, dotelioni e rabdomiosarcomi. Vabbè. Finisce qui i tumori ossei. Cosa volevo dirvi di questo? Vi chiudo tutto questo capitolo con un consiglio. Cercate di memorizzare di questi tumori ossei quelle varianti cliniche interessanti, quelle varianti radiologiche di diagnosi differenziali. Che io vi riassumo adesso così. L'osteoide ha una porzione radiodensa, iperdensa rispetto alla porzione circostante, con un nidus necrotico. Ok? Ipodenso, circonferenziale. L'esostosi è un polipossio, ovviamente albate. Invece, l'angioma ha queste vertebre trabecolate. Il tumore amielopassi è come un acisti, solo che le cavità sono molto più piccole ed è molto più infiammato, il tumore benigno, amielopassi. L'osteosarcoma è la variante osteolitica granata, la variante osteoblastica è a sole radiante pettinato. Il sarcoma di Edwing è quella a blu cellule a morso di tarso e a bulbo di cipolla. A morso di tarso è l'osteolisi. Il bulbo di cipolla è la reazione periostale. Poi, la cisti ossea giovanile, la cisti ossea aneurismatica, si vedono che sono cavità cistiche, i tumori dei tessuti molliche. Di questi in realtà il libro non ha detto molto, tranne che il gold standard è lo studio con tacchi di risonanza magnetica. E l'invasione scheletrica di questi tumori, vabbè, con l'Rx. Vabbè, abbiamo finito questo capitolo, adesso cominceremo quello delle fratture. Ci vediamo per la prossima video-lezione.